Ciao a tutti allenatori, sono sempre io il vostro amico Federic95ita E oggi siamo qui con un gioco di carte collezionabili online Ma con una persona speciale Mio fratello Gabriele Ciao a tutti Oggi allenatori spacchetterà lui, è la prima volta che lo vedete sul mio canale? No, la seconda Perché allenatori, tanto tempo fa, ci avevo fatto una challenge, ti ricordi? Lui vive a Trento, io mi sono trasferito a Milano, prima abitavamo insieme ma adesso insomma ogni tanto viene a trovarmi Quindi ne possiamo approfittare, ok? Oggi abbiamo Sole e Luna, Guardiani Nascenti Aprirai per la prima volta, tu questo gioco non ce l'hai e quindi è una bella esperienza diciamo Sì 7000 pollicioni in su se lo rivolete sul mio canale e spacchettiamo insieme Ora siamo pronti, abbiamo Sole e Luna, Guardiani Nascenti, 25 pack Tapulele è l'obiettivo di oggi Tapulele Hyper o, non so, Full Art è uguale Basta che troviamo Tapulele Se poi esce qualche fuori serie, ben meglio Ok, ti faccio vedere come si spacchetta e poi vai tu col primo pack, ok? Naturalmente allenatori anche sul suo canale sono usciti dei video Io che gioco a Call of Duty, what? What the fuck? Quindi passate anche sul suo canale che trovate in descrizione Quindi Sole e Luna, Guardiani Nascenti, tasto destro, tasto sinistro, apri Semplicissimo Ovviamente cercheremo di trovare le carte più rare Menti 5 pack, magari qualche GX ci esce anche, no? Quindi abbiamo Energia, Cotton, Bell, Splat, Patrat Tutte carte che già abbiamo, quindi non sono nuove Devi schiacciare soltanto tasto sinistro sulla carta che vuoi e si gira Ricordati, tasto sinistro, devi rimanere fermo però il mouse Così che la carta diventa grande Abbiamo Whiskash, vai, tocca a te Hai 24 pacchetti da aprire, vai, mi raccomando Ok, che l'obiettivo è Tapulele, giusto? Tapulele, Tapulele Vai Un Bunny Lux, niente di che Basta che fai continua e gli spacchetti tutti Va bene Abbiamo già aperto 100 pack, più 30, più 25 in questo set Ancora non abbiamo trovato praticamente nulla di buono Come mai qui c'è solo una carta coperta? A volte le carte rare sono due La reverse che può essere olografica oppure no In questo caso abbiamo un'ala reverse ma che è non comune Iniziamo Vai, 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 vai Vabbè, Solgaleo, Zanne Solari, 170 Durante il tuo prossimo duro non puoi usare Zanne Solari E vabbè, c'è togli 170 e non puoi usarlo Vai Comunque continuiamo Dai, dai, Gabriele, dai, 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 dai Vediamo un po' cosa riesci a trovare Sono veramente curioso Dai, Tapulele, Tapulele Dai, 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 dai È raro il posto È raro, c'ha la stellina ma chi se ne frega Noi dobbiamo trovare le carte quelle sbrillucci cose Tutte fighe insomma Ok, ho capito Ma che poi in questa espansione non stiamo trovando niente Ne autori, è veramente orribile Orribile, orribile Questo come vedi è comune, c'è il cibo del pallino Ok, vai, vai Oh, raga, incredibile, non stiamo trovando niente Cioè, ma veramente fai A fine video vi svelerò per avere questi pacchetti cosa ho dato Perché guardate, ragazzi, ultimamente Tapulele Questo è raro Com o Com o GX La GX l'abbiamo beccata E ti mancava? No, già ce l'avevo Già ce l'avevo Però dai, comunque Non è male Dai, allenatori Dateci la vostra energia Energia Vai, 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 vai Una rara, infatti vedi questa È rara Lunala, raro, reverse Ok Eee Un elio lì Ancora Mamma mia 17 pack 17 pack Allenatori Oh, io voglio trovare Quella tutta bianca Presenti, quella ghost Ah, sì, la ghost Come Yu-Gi-Oh Questo tentacruel com'è Non comune, non comune Vedi, vedi Quelle coperte sono solo rare E anche reverse Reverse, sì, esatto Vai, vai, vai Mamma mia Oricorio Guardate raga Non stiamo trovando niente È incredibile che Suggirci online Ultimamente sta facendo Schifo, schifo, schifo Un tapulele Voglio un tapulele Uno ne voglio Un goli sopod E un Ancora Ancora questo Ancora Uffa Io raga voglio tapulele Tapulele Ne avevo trovati due Nel primo pack Come ne chiamo 0 Dai, dai Tapulele Oh, pangoro Tanti, mi sa che io ce l'ho Ma l'ho più fortunata Fammi un po' Fammi un po' Provà perché Una la voglio provare Un Talonflame Raro Reverse E un Gotitel No, continua a spacchettare Tera Cacco Gotitel Non si trova più niente E ultimamente Gc online sta diventando Veramente qualcosa di Indescrivibile Lo sento Ora esce Dici? Sì Dici? Dici? Boom! Tapu Cocu CX Mentre l'altro è Lele Non Coco Tapulele Sì perché c'è Tapu Cocu Tapu Fini Tapu Bulu Che noi chiamiamo Bufu Tapu Bufu E poi c'è Tapu Cocu Che sono i protettori Delle isole di Alola Lui ogni tanto segue Pokemon Non tanto quanto me Lui gli piace più giocare Ecco All'iPlay 3 Piuttosto che Le console portate Play 4 Eccetera Vai 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 Tapulele Tapulele Boom! Un altro Tapu Cocu Vedi che me lo sentivo Due Tapu Cocu Mamma mia Due Tapu Cocu Ma il solito Tapu Cocu Confirma Cioè due di fila Non esce niente E poi Tutto di fila Ragazzi il gioco è fatto male Vai nuova Vanillite Reverse E Talon Flip Che prima avevamo trovato Inversione Reverse Ok Ancora 10 pack Per sperare nel benedettissimo Tapulele Intanto io vi ricordo Che sul suo canale È uscito un video Un po' simpatico Di Call of Duty Insomma tanto per giocare Lo lascio in descrizione Sharpito Vai continuiamo Mi raccomando un bel pollice In su se volete altri video A mio fratello Sicuramente qualche challenge Insieme a lui Vai vai Gabriele Gabriele Vai 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 In tanti Gex Regà Tutte le Gex Ma non troviamo l'hyper L'hyper e la full art Sono rarissime A parte che io in live Ho trovato il super martello Ah si Fuori serie Tanta roba Vai Tanto oggi A me non mi sono messo il cappello Niente proprio così Ok Gotita E un Onchgrove Sai quando vi faccio Onchgrove Ragazzi dovete dare la vostra forza Perché veramente è qua Confi E dai dai Tapulele Gotitello Ma è possibile È possibile Abbiamo pochissimi pack Pochissimi pack Ancora a nostra disposizione Dai ora me la risento Gli ha un po' Eh no no Non te la puoi sentire così spesso Ragazzi ancora 5 pack Questo è il sesto E poi non avremmo trovato niente Cioè vi rendete conto Vi rendete conto Cioè io non riesco a crederci Un Solgaleo E la rara 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 È un oricorio Come buttare i venti e passa Pec Cioè ragazzi questi pack Mi potevo prendere magari un tapulele Magari Io un po' Un Vanilux E un Un altro oricorio Sti cazzo d'uccelli Sti uccellacci Ah regà E dai Mamma mia Mamma mia Io un po' Toxapex Oh ne ho un casino di Toxapex Ma perché non esce tapulele Perché non esce questo tapulele allenatori Perché non esce Cioè io voglio Per farci il mazzo Ma me ne manca uno È forte il mazzo Eh tapulele è una bestia È proprio una bestia Il mazzo di tapulele è Vai 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 due pack Ultimi due pack E poi avremmo terminato Sì nel pack opening Incredibile Però hai trovato un botto di GX Cioè Sì dai sono fiero Potessi ancora trovare qualcosa In effetti Vai vai Ah Ancora niente Scash Ultimo Ultimo pack allenatori Dopodiché Mi raccomando Confidente stesso Devi crederci Credo nel cuore delle carte Sì credo nel cuore delle carte E qui devi dire Ci troverò qualcosa Ci troverò qualcosa Vai vai Polito de Boom Wishy washy GX Che mi mancava Mi mancava questo Allora buono Allora ti dirò Ti dirò Hai fatto un bel bottino Hai fatto un bel bottino Perché comunque in 25 pack Se non sbaglio Hai trovato 6 GX Più o meno Più o meno Non abbiamo più nulla Da spacchettare però E questo è un problema Questo è un bel problema Nulla da spacchettare Ma che dici Altri 4 pack ce li facciamo Che dici Io direi di sì 4 pack così Allora Siamo riusciti a rimediare 2 pacchetti Ti senti pronto? Tantissimo Abbiamo 2 tipi Turbo Blitz E suono in una modella Nascenti Purtroppo Per gli scambi Non è che posso dare Tanto ultimamente Allenatori Perché sto cercando Di fare qualche mazzo Per giocare Quindi Questo è quello Che stiamo riusciti A rimediare Ti senti pronto? Vai con Turbo Blitz Vai Turbo Blitz Allenatori veramente Abbiamo dato via Una cosetta Che Comunque Per ricevere questi pack Quindi è un po' Un Ci dobbiamo andare di fortuna Insomma Vedi che c'ha Gli artwork sono diversi Da qua Vai trovami Sto Mega Mewtwo Mamma mia E non si trova niente Qui eh Vai questi 3 pack Vai sole e luna Guardia i nascenti Riprova 3 pack 3 pack Quindi sono quasi 30 pack 29 in questo spacchettamento 29 Dai Una GX Una GX Hyper Ti prego Dai Un Sandslash Oh veramente raga È incredibile Non riesco a trovarle Hyper Ma sono così rare Poi soprattutto in questo set Che ne hanno fatte tantissime Io sto cercando di finire Il set nella vita reale Ma è impossibile Vai provaci Niente Vicribelle Ci stiamo buttando proprio il nostro tempo Cioè ti rendi conto Sì ultimo pack Tapulele Tapulele Dai 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 Basta Veramente Ultimamente GX online Ragazzi è diventato qualcosa di assurdo Scrivetemi se anche voi Non state trovando niente Nell'ultimo periodo Io spero che questo video Un po' così Alternativo Con mio fratello Vi sia piaciuto Vi ricordo in descrizione Trovate anche il video Sul suo canale Ultimamente Ne usciranno 1 o 2 Ne abbiamo registrato Un po' di Call of Duty Così tanto per vedere Quanto sono un hub su quei giochi Perché non ci gioco mai Ovviamente E lasciare un bel pollice in su Un commento Iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto E ci vediamo I prossimi spacchettamenti Quanti like? Meno 7000 Vai 7000 like 7000 like Minimo E ci vediamo I prossimi spacchettamenti Giochi di carte Collezionabili Online Soprattutto Quando metteranno Un po' a posto Tutto sito Perché ultimamente È ingestibile Ingestibile Vuoi dire qualcosa? Ma io direi Di vederci un po' BELLA Ciao 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 Ciao